Salve, sono Robi Nuda, prendo i ricchi per dare ai poveri, mi dia il portafoglio. Ma non è che diciamo che siamo poveri, in realtà non è vero, guardate come è andato in giro, non mi sembrate dei poveri, quindi voi puntate sull'apparenza. Buonasera, sono Robi Nuda, salve, sono Robi Nuda, Mr. Lakerfield, I'm Robi Nuda. I'm Robi Nuda, I'm Robi Nuda. Can I, can I, can I, can I speak? No, 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 no. Mr. Lakerfield non c'ha, non c'ha neanche, diciamo così, considerato, non abbiamo potuto parlare con Mr. Lakerfield. Give me your money. Ciao, sono Robi Nuda, prendo i ricchi per dare ai poveri. Non mi dire che sei povera. Brava. Non è vero. Ok, quindi cosa dovrei fare? Mi devi lasciare qualcosa per i poveri. Io sono Robi Nuda, ci si sente a disagio essere ricchi oggi? Ma io non sono ricca. Tra le altre cose rischio anche di mio, perché ho fatto un lavoro individuale, quindi ho una mia impresa personale. Una donna intraprendente oggi? La mia persona, senza avere nulla. Viva le donne. Ovviamente non mi dare le monetine. Aspetta, va, non ti do le monetine, quindi devo andare nell'altro. Aspetta, non ti do, ok, Robi Nuda. Vai, ok. Grazie. Vuoi dare qualcosa per le persone un po' più povere di te? Grazie, grazie. Vabbè, ma io di fretta me le puoi dare, se vuoi. Robi Nuda e Little John va nella foresta. Lei da dove arriva? Procinone, social. Dove vive a Roma? Di passaggio, torno a Cinecittà. A Cinecittà per strada? Eh, no, c'è un garage. E mangia. Come capita? Ho preso i ricchi per dare ai poveri. No, no, mi dà lei quello che vuole. No, metta la mano e prenda. No, 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 non è educata. Prenda, sì, quello che capita. Non lo so. Faccia attenzione, eh, Giulio. Grazie. Faccia attenzione, eh, Giulio. Grazie. Grazie, grazie. Prendi. Voi lo fate va benissimo. Ecco.